sabato 6 luglio 2024 buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa buongiorno e vi ricordo il numero di telefono per i vostri vocali whatsapp che il 366 11 12 9 64 vi ricordo altri due appuntamenti il primo è quello di questa sera quando commenteremo insieme gli ultimi due quarti di finale del campionato europeo quello tra l'inghilterra e la svizzera le 18 quello tra olanda e la turchia questa sera le 21 quindi appuntamento dopo la partita per commentarne insieme e poi domani pubblicherò un video dove vi racconterò un po nel dettaglio il calcio di fonseca e soprattutto la sua evoluzione e quello che può portare al milan e quello che fonseca può fare con i giocatori che intanto ci sono in rosa quindi appuntamento domani domenica con questo video poi lunedì la diretta alle 13 la compagnia della rave 18 e 30 insomma le solite cose andiamo ai quotidiani e andiamo a vedere che cosa ci raccontano i giornali oggi ne dico la cominciamo dalla gazzetta dello sport che in taglio alto mette sinner wimbledon è agli ottavi avanti wimbledon è agli ottavi avanti pure la paolini vince yannick sinner il suo incontro e dunque va avanti veniamo al calcio la juventus anche ebram la signora non si ferma a motta piace l'inglese chiesto il prestito alla roma di gregorio ha firmato intanto è il nuovo portiere dei bianconeri e arriva dal monza oggi è il giorno dell'arrivo proprio di paolo fonseca al milan a milano sbarca fonseca subito a milanello primo obiettivo vincere il derby è un inizio credo che fonseca se li sia visti a differenza di altri l'euro scandalo ne abbiamo parlato ieri sera il rigore non dato alla germania nei tempi supplementari spagna 2 a 1 e supplementari in semifinali sfida la francia 5 a 3 ai rigori con il portogallo ma resta insomma questa questa cosa dell'arbitro taylor che non che non ha dato un calcio di rigore piuttosto netto è il taglio alto anche del corriere dello sport la germania accusa taylor sull'uno 1 negato ai tedeschi il penalty per un mani identico a quello di siviglia roma il portogallo di cristiano ronaldo fuori ai calci di rigore poi il mercato buongiorno ha scelto il progetto di conte vuole il napoli de lorentis è pronto a chiudere subito l'accordo col toro è fatto da sistemare le commissioni l'inter può inserirsi solo cedendo defray all'al itiad poi chiesa federico chiesa la roma adesso a fretta nuovo contatto tra dei rossi e la punta fede prende tempo non è pronto tra matrimonio e post europeo le fe a un passo e torna di bala questo è il mercato attivo della roma e poi vedete in basso morata apre al milan oggi sbarca fonseca lazio sinistra spunta avigalan terzino del tetico madrid e poi zagnolo che ha firmato con l'atalanta zagnolo da gasperini atalanta un onore dunque ufficiale d'arrivo appunto di nicolo zagnolo al all'atalanta su tutto sport yannick jasmine martelli d'italia sinner e paolini devastanti wimbledon sempre più azzurro sulle tutto per tiago mattia sal lavoro intervista al preparatore tutto sport ha sempre questa capacità di andare a intervistare dei personaggi un po di contorno e poi farci i grandi titoloni ma comunque è un'abilità come un'altra insomma anche questa poi buongiorno più ili c2 si da 65 milioni per cairo ma è curioso il titoletto inter senza soldi inter senza soldi il difensore al napoli questo titolo sobrio di tutto sport michelle e alicia la juve si fa bella di gregorio e lehman ingorgo al j medical emozione autografi per il portiere visita e selfie con i tifosi anche per la compagna e douglas luis rinforzo delle women germania shock e ira teo germania no questi titoli senza punteggiatura germania shock e ira teo urlo francia questo si legge così clamoroso il magno di cucureia non sanzionato sull'1-1 hernandez non sbaglia l'ultimo rigore de champ va in semifinale questo il quadro per quel che riguarda le prime pagine dei giornali poi naturalmente ci sono tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi che vi risparmio perché va bene un po ma insomma non stiamo esagerare ma andiamo subito a vedere che cosa è successo ieri andiamo subito a vedere che cosa è successo ieri e andiamo subito a vedere cosa è successo ieri eccolo qua spagna show furia germania non visto un rigore che beffa per i tedeschi merino la decide al centodiciannovesimo minuto botta e risposta danni olmo wirz poi l'arbitro taylor non vede un netto mani di cucureia padroni di casa eliminati a un passo dai calci di rigore ma come dice giustamente tony cross che lascia e questo è abbastanza triste lo sappiamo dice sono orgoglioso abbiamo dato speranza alla germania sono stato felice di dare una mano penso che abbiamo ridato speranza al calcio tedesco e siamo migliorati andando avanti penso che la squadra lo farà in futuro ma oggi siamo estremamente tristi naturalmente anche per il rigore non dato nagesman accusa taylor dice il rigore andava fischiato se il tiro di musiale diretto in porta e l'avversario lo para con la mano non conta che non l'abbia fatto apposta comunque tant'è tant'è la situazione la situazione è anche buona per la francia nonostante non riesca praticamente a fare gol passa il turno ai calci di rigore grazie a teo francia in semifinale bapeci r7 nulli portogallo kao solo ai rigori decide il milanista 0 0 anche dopo i supplementari dal dischetto l'unico errore di joe felix i bleu mai assegno su azione e ora c'è la spagna una delle cose che ieri sono emerse insomma agli occhi di tutti è stata la linea d'eguatezza ormai di cristiano ronaldo lento e mai pericoloso ronaldo la notte triste di una stella al tramonto sbaglia un gol nel primo tempo supplementare segna il suo rigore a 39 anni e ai saluti questo l'interrogativo della gazzetta dello sport nel frattempo c'è stato adesso andiamo alle questioni di mercato ma ci sono state due cose per i calendari ovvero le date delle prime tre giornate di serie a e il tabellone della coppa italia per quel che riguarda le prime tre giornate di seriale vediamo insieme la prima giornata vedete apre il campionato di seriale 18 30 sabato 17 agosto la sfida tra genoa l'inter e quella tra il parma e la fiorentina milan gioca la sera milan torino al 20 45 di sabato 17 agosto la seconda giornata invece vede il milan aprire il turno alle 18 e 30 a parma in contemporanea con udinese lazio mentre per quel che riguarda la terza giornata la terza giornata la vediamo subito eccola qua il milan gioca sempre di sabato ma le 20 45 dunque le prime tre giornate milan gioca sempre di sabato segnatevelo se avete insomma piacere di andare a vedere la partita il 4 agosto al via anche la coppa italia eccola qui le big a dicembre tra milan e inter sfida in semifinale l'11 agosto in campo 12 di serie a tra cui il napoli e il torino possibile derby romano in semifinale e genovese ai sedicesimi milan è qui nel lato destro diciamo del tabellone vedete dalla parte della roma ma dalla parte anche del lecce del genoa insomma del como ecco queste sono altre squadre serie a e poi sotto c'è la parte della lazio del napoli anche poi dell'inter ecco questo è il tabellone tanto vi dovevo per quel che riguarda le insomma le cose ufficiali invece per le cose ufficiose ne abbiamo a pacchi e bram juve contatto un altro 9 per motta spunta l'inglese come vice vlaovic i bianconeri sondano la roma per avere in prestito l'attaccante tammi può prendere il posto di milic chi invece è già arrivato e prenderà probabilmente il posto di scesni e di gregorio il portiere l'ottimo portiere che arriva dal monza eccolo qua ieri ha svolto le visite mediche con la juventus michele di gregorio il portiere in volo tra i miti della juve da zoff a buffon l'ex monza raccoglie l'eredità di scesni e rinnova la tradizione bianconera dei numeri 1 italiani non ha invece rinnovato la tradizione diciamo che vuole un tecnico italiano in panchina e ne parleremo proprio quando analizzeremo paolo fonseca ma oggi è il giorno dell'arrivo di fonseca a milano eccolo qua il giorno di paolo vedete che sbarca un po assonnato guardate sta foto un po assonnato ho fatto un volo da portogallo non è che siano 26 ore di volo comunque arriva assonnato paolo fonseca ma sicuramente sarà vispo e pimpante a partire dal lunedì quando alle 11 sarà la conferenza stampa di presentazione poi nel pomeriggio primo allenamento voglia di diavolo fonseca arriva e subito milanello il nuovo allenatore dei rossoneri sbarca a malpensa prima delle 12 con i 5 componenti dello staff andrà a conoscere il centro sportivo naturalmente si parla anche di milan per quel che riguarda il mercato anzi si parla anche di mercato per quel che riguarda il milan le mosse morata resta in corsa per emerson royal primo no del tottenham proposti 15 milioni risultavano 12 ma vabbè sono spuntati tre nella notte per l'esterno brasiliano in difesa sempre se prende sempre più quota e pavlovic il difensore del salisburgo qui nel mirino a sinistra naturalmente il 4 2 3 1 con loftus chic trequartista ancora e ancora e ancora e ancora lui magari chiederanno come vuole giocare chissà se chiederanno qualcosa anche a simone inzaghi e il mercato dell'inter bloccato eccoli qua gli stop mercato correa e arnautovic frenano gli affari il prossimo colpo deve attendere buchanan kao mette l'inter nelle condizioni che hanno sostituto se fatto male malissimo buchanan è in allenamento con il canada ds ausilio dice cerchiamo un innesto intelligente dunque anche il mercato dell'inter è in attesa anche se loro insomma due giocatori li hanno già presi c'è un bel approfondimento della gazzetta dello sport sul tema difesa 3 o difesa 4 ecco qua è quasi pari il 3 5 2 non è più così difensivista da motta a fonseca 4 2 3 1 diversi e qui vedete il milan è messo nella lista del 4 2 3 1 giocheranno 4 2 3 1 la juventus la lazio il parma il como e noi come dicevo lunedì magari chiederanno a fonseca anche di questa cosa siamo arrivati alla fine della rassegna stampa io vi ringrazio vi auguro un buon sabato e vi do appuntamento a questa sera quando commenteremo gli ultimi due quarti di finale del campionato europeo e poi domani per conoscere insieme paolo fonseca un po più nel dettaglio e capire che cosa ha fatto la sua evoluzione e cosa potrebbe fare il milan buon sabato a tutti e e e Grazie a tutti.